Dopo il faccia a faccia di lunedì tra la sindaca Giacilia Francese e i genitori degli alunni della scuola Fiorentino, altro summit, ma questa volta con una delegazione di genitori dei ragazzi dell'Istituto Marconi. La domanda rivolta alla prima cittadina è quella di sapere se le nostre scuole sono a posto, a rispondere con la prima cittadina anche il vice sindaco Stefano Romano e gli assessori Rosaria Caracciolo e Pietro Cerullo. Con i lavori che saranno effettuati all'interno della scuola, opere da 200.000 euro, sono previsti anche quelli di impermealizzazione, oltre ad altri interventi di riqualificazione delle Marconi. Altri 200.000 euro di fondi comunali per la Calamandrei, le elementari del comprensivo Marconi. Gli alunni delle elementari della Fiorentino comunque, dopo i lavori di impermealizzazione, arriveranno alle Marconi. Nel mentre l'ente è in cerca di una ditta privata per garantire il trasporto gratuito ai ragazzi in trasferta a Serroni.